Non c'è nessuna intenzione di spaccare la maggioranza, nessuno è così scemo. Bruno Vespari dimensiona Matteo Renzi, che sostiene che le parole di Matteo Salvini siano un chiaro avvertimento agli alleati. Ospiti entrambi di Stasera Italia nella puntata di domenica 3 dicembre su Rete4, il giornalista e il leader d'Italia Viva commentano l'appello del leader leghista alla manifestazione Free Europe a Firenze. Il ministro ha premesso che non è in discussione la tenuta del governo di centrodestra. Ma dico agli alleati che sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa. Parole che hanno subito scatenato Renzi, la Meloni sull'Europa che idea ha? Ha cambiato idea su tutto. La sintesi? Tutto quello su cui ha fatto campagna elettorale. Poi è cambiata. E a Bruxelles questo piace. Manco Conte e i giornali esteri l'hanno chiamato Camaleonte. Ma Vespa non è dello stesso parere, né Salvini né Tajani hanno interesse a mettere in discussione la maggioranza interna. Da qui quella che il conduttore di porta a porta definisce la vera domanda, ossia se Meloni farà la coalizione Ursula oppure no. La Fonderlian è attaccata a Meloni come la sorella, spera nel suo appoggio. E proprio sul premier torna a parlare Renzi. La Meloni, prosegue, dice sempre che non farà la fine di Renzi. Se continua così non farà nemmeno l'inizio di Renzi. Il riferimento è al referendum per il premierato. A detta del leader di Italia Viva se chiacchiera, non farà neanche le riforme. Però il referendum è una brutta bestia. E lui lo sa bene.